L'assessorato regionale dell'economia ha pubblicato il decreto che disciplina l'accesso ai contributi straordinari della regione siciliana per i danni dovuti all'emergenza e incendi dell'estate 2023. Il provvedimento fa seguito allo stanziamento da 2,9 milioni di euro previsto nella legge di stabilità, approvata a gennaio ed è rivolto a quei cittadini che hanno subito danni al proprio patrimonio, immobiliare e immobiliare a causa dell'eccezionale ondata di calore dello scorso anno. Sarà l'IRFIS a emanare entro i prossimi giorni un apposito avviso con termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo. Con questo provvedimento, dice il presidente della regione Renato Schifani, il mio governo manifesta vicinanza concreta a tutti quei cittadini che hanno subito danni durante quei terribili giorni della scorsa estate. Non potremo mai dimenticare le ferite inferte alla nostra isola dalla furia criminale dei piromani, le vittime e il dolore di chi ha visto andare in fumo la propria casa. E proprio a loro, con questi contributi, vogliamo ricordare che non sono soli, che il governo regionale è al servizio dei siciliani, soprattutto nei momenti di difficoltà. Manteniamo l'impegno, afferma l'assessore regionale all'economia Marco Falcone, a dare il giusto segnale di vicinanza alle famiglie colpite dall'ondata di incendi che causò gravissimi disagi all'intera isola. Dopo aver stanziato le necessarie somme, daremo seguito alle erogazioni di un aiuto che potrà arrivare fino a 50.000 euro nel caso di danni alla prima casa. Anche le eventuali abitazioni diverse dalla prima casa potranno comunque beneficiare di ristori. La regione è al fianco dei cittadini.